La cosa più difficile quando si gira un video su YouTube è togliersi dalla faccia tutta quanta la stanchezza e i pensieri della giornata. Ma non è questo il motivo per cui ho girato questo video per ben tre volte. Il motivo è che non ne sono completamente soddisfatto. Infatti, probabilmente ritorneremo su questi argomenti anche altre volte. E questo perché alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare di come io personalmente imposto la mia macchina fotografica quando esco a fare street photography. Ecco, è una responsabilità. La nostra è un'arte che non merita una macchina fotografica non pronta per assecondare la nostra creatività. Per scattare nella street photography serve soltanto efficienza e velocità per non perdere nessuno scatto. E quindi i miei sono solo e esclusivamente dei consigli che vengono fuori dall'esperienza e per carità anche da qualche buona figura di merda. Ma non sono il sacro grallo. Sono piuttosto l'invito per spingervi a sperimentare e trovare così con la vostra esperienza le vostre impostazioni migliori. Fotografare significa scrivere con la luce e per farlo bisogna dosare bene la luce ma servono solo e esclusivamente tre parametri. Iso, tempi e diaframma. Ecco, questo è un canale dove voglio sfatare il mito delle bugie. Perché? Perché le bugie di Pulcinella non esistono, tantomeno nella street photography. Quindi mi sentirete dire che scatto gli automatismi. Mi sentirete dire anche che per non perdere neppure uno scatto in velocità utilizzo tempi di un millesimo di secondo. A volte scatto addirittura più veloce. E mi sentirete dire anche che la profondità di campo la scelgo quando scatto fotografie e non quando compro la macchina fotografica. Ma soprattutto mi sentirete sempre dire che sbagliare non è reato. Ci vediamo dentro. Benvenuti signore e signori, benvenuti in questo mio nuovo video. Questa volta inizio il video della settimana come fanno tutti i veri youtuber. No, senza unboxing. Lo faccio però dicendo che in tanti mi avete chiesto come impostare la fotocamera durante l'uscita di fotografie di strada. È arrivato perciò anche per me il momento in cui faccio un video virtuale in cui spiegherò le mie impostazioni per la fotografia di strada e perché le uso praticamente in tutti quanti gli scenari. Oggi mi concentrerò soltanto su questo, attraverso le impostazioni della fotocamera una per una, iniziando da quella che per me però rimane quella più importante. Anche se alla fine del video mi tengo un paio di minuti per dirvi alcuni casi speciali in cui queste impostazioni potrebbero non essere appropriate e quindi ne utilizzeremo delle altre. Ci tengo però a fare soltanto un piccolo preambolo per dirvi che fotografare in fin dei conti non è difficile, è semplice. Servono soltanto tre parametri della fotocamera da tenere in considerazione. Tutto il resto lasciamolo a chi fa sport e finché mi arretto il fisico, credetemi, lo sport aveva senso soltanto se ti fa sudare, se no diventa polemica. Ok, questa la taglio, la taglio, la taglio giù. Quindi partiamo subito dalla modalità di scatto che personalmente la reputo anche la parte più importante in fotografia. E no, ve lo dico subito, io non scatto in manuale, anzi, appena sento qualcuno che dice di scattare in manuale dalla street photography personalmente scappo lontano. Non lo reggo, mi parte proprio l'embolo, mi si gonfia la vena, qua, qua, non ce la faccio. E questo non perché io non sappia scattare in manuale oppure perché non potete farlo voi, ma soltanto perché la modalità manuale te la puoi permettere soltanto in studio quando fotografi un soggetto oppure un paesaggio oppure quando vuoi farti il figo. Punto. Non lo puoi utilizzare la modalità di scatto manuale quando devi saper raccontare un momento spontaneo che solitamente dura un secondo e anche meno. E molto probabilmente non ricapiterà più. Ok, basta con le polemiche, piuttosto lasciamole nei commenti. Anzi, iscrivetevi subito al canale. Se vi piace questo progetto di F4.0, commentate subito con soltanto uno di voi ha avvelenato il caffè. E non siate timidi, provate a indovinare il motivo di tutti quanti questi commenti, perché la maglietta è sempre in palio e soprattutto è sempre figa. Dicevamo, io personalmente scatto in priorità di diaframma. Per essere ancora più chiaro, la priorità di diaframma è una modalità che è semi-automatica, in cui imposti manualmente soltanto il diaframma e poi la fotocamera regola automaticamente anche i valori di ISO e la velocità dell'otturatore. Questo mi consente di avere il pieno controllo sulla profondità di campo, che è particolarmente importante nella fotografia di strada, ma mi lascia comunque, allo stesso tempo, una libertà sufficiente per concentrarmi sulla composizione senza dovermi più preoccupare dei settaggi tecnici. Questa impostazione, quindi, ti consente di avere proprio il controllo più importante in fotografia, e cioè il diaframma. Per tutti quelli che ancora non hanno grande familiarità con questa impostazione, vi dico subito che il diaframma definisce la profondità di campo nell'immagine finale. Il numero più basso disponibile sull'obiettivo, come per esempio 1,8, ti darà la profondità di campo più ridotta e ti fornirà quell'effetto di sfocatura o di bokeh che piace a tanti. Mentre invece, se scegli un numero più alto del diaframma, avrai una profondità di campo molto maggiore e questo può essere utile se vuoi che tutti quanti gli elementi della scena siano tutti quanti nitidi e a fuoco. Impostando perciò la fotocamera in questa priorità, puoi sempre avere il pieno controllo sulla profondità di campo e creare in questo modo delle immagini con degli effetti visivi molto interessanti. Ora, ci tengo a dire che non è una regola il diaframma da utilizzare nella street photography. Devi scegliere tu cosa vuoi raccontare e sarai soltanto tu a scegliere quello che preferirai in base alla scena. Questo per me però è quello che fa la differenza più grande tra un'immagine e un'altra ed è proprio questo il motivo per cui vogliono sempre averne il controllo completo. E poi, essendo anche una modalità semi-automatica in opposizione alla modalità manuale completa, è molto più facile e molto più veloce da utilizzare una volta che si è capita bene. E una volta che ti sarei anche abituato tu a utilizzarla, potrai avere tutti quanti i vantaggi della modalità manuale combinati però con una usabilità molto più efficiente e molto più veloce. Infatti, grazie a questa modalità di scatto, avrai molto più spazio per concentrarti su quello che ti sta accadendo intorno e su quello che invece potrebbe essere interessante da fotografare, senza essere impegnato quindi ad aggiustare tutte le volte l'impostazione della macchina, perdendoti quei momenti che invece avresti voluto fotografare. Con queste piccole spiegazioni, diciamo così, spero anche di averti convinto sul perché la priorità di diaframma è la migliore modalità di scatto da utilizzare nella street photography. Vediamo però anche alcuni parametri che devi saper impostare perché questa modalità risulti veramente perfetta. Così come vi ho accennato prima, la fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore è anche il valore ISO, ma puoi comunque avere sempre un controllo in più sulla fotocamera e dirle in quale range vuoi che questi valori debbano lavorare. Praticamente puoi dire sempre alla fotocamera di non andare mai sotto una certa velocità di scatto e di non superare mai un certo valore di ISO. Questo ovviamente dipende dalla fotocamera che stai utilizzando, ma la maggior parte delle fotocamere che sono oggi in commercio, quelle nuove, possono arrivare tranquillamente fino a 6400 ISO e ottenere delle immagini che sono sempre utilizzabili. Io attualmente uso una Sony A7 IV con cui tranquillamente la imposto a 6400 ISO, ma facevo la stessa cosa anche con la mia Fuji X-T4 e ho provato che va benissimo anche sulla Canon R7 e la Canon R10, così come tutta quanta sulla serie S della Panasonic. Adesso è arrivato il momento anche di impostare la velocità minima dell'otturatore che vogliamo. Per fare questo però dobbiamo tenere a mente una regola particolare. Dobbiamo prendere infatti in considerazione l'obiettivo che stiamo utilizzando, perché più è lungo l'obiettivo, più è lunga la lente, più veloce deve essere la nostra velocità minima dell'otturatore. C'è una regola generale che dice che la tua velocità minima dell'otturatore deve essere il doppio della lunghezza focale che stai utilizzando. In termini pratici significa che se stai utilizzando un 50 mm la velocità minima dell'otturatore dovrebbe essere intorno a un centesimo di secondo, ovviamente sempre se la vogliamo senza stabilizzazione. È una regola abbastanza precisa ma dipende comunque sempre dal tuo tipo di scatto, dal tuo stile di scatto, se scatti in apnea, da come reggi la fotocamera o anche dalla fermezza che hai nelle mani. Non è un vangelo, però diciamo che ci si avvicina. A me personalmente piace scattare molto in movimento e reagire in maniera rapida a quello che mi succede attorno. E per esempio con la mia lente che è un 40 mm, la mia lente preferita che è un 40 mm e poi magari un giorno vi dirò anche il perché, arrivo a fotografare fino a un cento lenticinquesimo di secondo. In questo modo la modalità di priorità di diaframma è perfetta. Ma più avanti però, come vi dicevo, tornerò per alcuni casi speciali in cui non va bene al cento per cento. Ma vi dico che questo modo di impostare la macchina fotografica è normalmente il modo che utilizzo per il 95% del tempo che io sto in strada. Passiamo invece adesso, scusatemi, a quella che è la modalità di messa a fuoco e all'area di messa a fuoco. Ma tralascio volutamente il fuoco manuale e l'utilizzo dell'iperfocale per cui voglio fare un video apposta in maniera molto più approfondita. Personalmente, ve l'ho detto, mi piace scattare molto in movimento e la maggior parte dei soggetti che fotografo sono anche in movimento. Quindi utilizzo la modalità di messa a fuoco continua. E non sto a tirare le parti, adesso ho una macchinetta piuttosto che un'altra, perché le fotocamere mirrorless moderne, quelle attuali, hanno un autofocus che è molto buono e personalmente lo considero un peccato non utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità. E per l'area poi di messa a fuoco utilizzo la modalità di tracciamento che è combinata con la modalità spot esteso. E questo lo faccio per avere un margine maggiore di manovra in fase di composizione. Perché quando premo a metà il pulsante di scatto, allora la fotocamera inizia già a mettere a fuoco il soggetto e a tracciarlo. E vi assicuro che questo è assolutamente utile quando hai già la composizione in testa. Oppure hai già preparato la fotografia e il soggetto finalmente ti entra nel frame. E diciamola pure tutta, questo sistema ti permette anche di scattare a raffica per mantenere sempre il soggetto a fuoco nell'immagine. Un altro scenario in cui trovo molto utile il tracciamento del fuoco è quando per esempio non ho il tempo di spostare il punto di messa a fuoco all'interno dell'immagine e posso utilizzare il buon vecchio metodo del punta e poi ricomponi. Ecco fatto. La modalità di messa a fuoco e l'area di messa a fuoco sono impostate e spero che con questi consigli anche tu tornerai dalla prossima battuta fotografica con tutte quante le fotografie a fuoco. O quasi. Passo adesso a quello che è il bilanciamento del bianco ed è un argomento che tratterò in maniera veramente molto molto veloce. Perché così come per la modalità manuale vado dritto al punto. Io utilizzo il bilanciamento del bianco in automatico. Perché? Perché personalmente scatturrò e tralasciando tutte quante le teorie empiriche ho tutta quanta la libertà che voglio in post produzione di cambiare il bilanciamento del bianco. Quindi non mi preoccupo di cercare l'impostazione migliore quando sono in strada a scattare fotografie. Parlo adesso invece della cosa che forse è più complicata nel settaggio della fotocamera, cioè la misurazione dell'esposizione. La misurazione dell'esposizione è qualcosa che non è particolarmente affidabile nelle fotocamere o almeno non in tutte le condizioni. Quindi personalmente vi consiglio di giudicare sempre quello che state vedendo voi o nel mirino oppure nello schermo. Ovviamente sempre tenendo presente quello che è il vostro risultato finale che volete ottenere. La fotocamera cerca sempre di trovare un'esposizione perfetta per quello che stiamo fotografando ma in molti casi questa esposizione perfetta non corrisponde all'immagine che noi abbiamo in testa o alla foto che vogliamo scattare. Quindi impariamo a compensare. C'è una rotella apposta in tutte quante le fotocamere che è dedicata solo a questo. Impariamo a utilizzarle. In termini pratici io uso la modalità di misurazione dell'esposizione multizona che misura la luce e imposto una corretta esposizione su tutto quanto il frame. In base a questo poi utilizzo la compensazione dell'esposizione e la imposto di default a meno 0,3 stop di base perché le fotocamere attuali sono molto più brave a mantenere i dettagli nelle ombre anziché nelle luci. Quindi è meglio sottoesporre e recuperare le ombre in post produzione piuttosto che fare il contrario. Ovviamente anche questo non è un vangelo perché come vi dicevo dipende sempre dalle condizioni e da quello che personalmente voglio fotografare. Infatti se mi trovo in un ambiente che è particolarmente contrastato e voglio assolutamente mantenere le alte luci e le parti più luminose vado anche sotto questo 0,3 e scendo addirittura fino a meno 2 stop. E tutto questo sempre e soltanto con questa manopola della compensazione. Concludo il video adesso parlando di quei casi speciali di cui vi parlavo prima in cui queste impostazioni in realtà potrebbero non essere appropriate. Il primo di questi casi è sicuramente la sfocatura di movimento. Ovviamente con la velocità dell'otturatore minima che abbiamo impostato in precedenza sarebbe impossibile creare una sfocatura di movimento oppure creare delle lunghe esposizioni. Faccio scatti simili soltanto in occasioni molto particolari e soltanto dopo aver prima previsualizzato lo scatto. Perciò quando lo faccio cambio semplicemente la modalità e scelgo la modalità priorità dell'otturatore che funziona essenzialmente come funziona la modalità di apertura del diaframma ma l'unica impostazione su cui ho il pieno controllo è la velocità dell'otturatore. Quindi a seconda del risultato che desideri puoi impostare la velocità dell'otturatore e ottenere perciò lo scatto che vuoi anche tu. Basta poco, basta soltanto variare la rotella da priorità diaframma a priorità tempi. Un altro scenario poi in cui cambio le impostazioni di base è sicuramente la fotografia fatta di notte e questo a causa della poca luce perché mantenere la velocità dell'otturatore minima come siccome l'abbiamo impostata in precedenza di giorno è sicuramente impossibile. Quindi non faccio altro che ridurre al minimo i tempi di scatto con cui però mi sento ancora a mio agio, considerato sempre per esempio lo stesso obiettivo di 40 mm lo tengo intorno a un trentesimo di secondo. Ma adatto ovviamente il mio tipo di scatto, il mio approccio allo scatto perché non posso essere dinamico come lo sono di mattina quindi utilizzo un approccio per così dire un po' più riflessivo e quando invece volessi congelare un'immagine un momento posso sempre reimpostare il tempo più veloce con un tocco, sempre con quella famosa rotellina. Di notte poi la misurazione della luce è sicuramente meno affidabile rispetto al giorno. Quindi è questo il motivo per cui quando scatto di notte utilizzo molto la compensazione dell'esposizione e prendo le mie decisioni sempre su quello che vedo nel mirino oppure nello schermo ed è per questo motivo che vi consiglio di fare altrettanto e di non filarvi soltanto di quello che dice la macchina fotografica. Detto questo penso di aver un po' toccato tutti i punti che volevo affrontare parlando dei settaggi della mia macchina fotografica e spero che questi consigli ti possono essere d'aiuto e infatti vorrei tantissimo sapere nei commenti giù sia cosa ne pensi o anche delle domande specifiche. Vi saluto e non vedo l'ora di vedervi la prossima settimana in cui parleremo delle regole di composizione probabilmente però come noi non ne avete mai sentito parlare. Ciao!